Qua ci mettiamo tutti i fiori, tutte queste trave di legno qua, ci mettiamo tutti i fiori. Al castello, come ogni giorno, si prepara un grande evento, ma questa volta è un evento epocale. Si sposa mia figlia Maria Grazia. Questo è un momento storico per noi, perché è il primo matrimonio della quarta generazione della famiglia polese. C'è anche un'altra sorpresa, diventerò nonno presto. Pensate che io diventerò bisnonno. E la torta sta nascosta dentro qua. E facciamo scendere la torta, che si ferma più o meno dall'altezza qua. Mi sono affacciato in zona reale e ho visto che Zio Sabatino e Ciro stavano preparando una struttura in legno, una cosa particolare. Matteo, questa è una struttura che ci permette di far scendere la torta dal cielo e gira anche, gira. Dal cielo, dalle nuvole, scende una torta giù di una cosa meravigliosa. Dovete vedere per credere. Ma io reggio qua, sì. Si reggio. E chi sudava il caffè di cavallo qua? Che serve? Sudava le stritte. Ma facciamo solo un buffet. Ma facciamo un buffet dinamico. Mi hanno spiegato qualcosa perché non ho capito bene quello che vogliono fare. Noi spegniamo le luci. E abbiamo fatto tutto un ciro stellato. Abbiamo fatto una cosa bellissima, sono circa 4 chilometri di luci che abbiamo messo nel tetto della sala reale. Sarà una cerimonia da faula, una cerimonia da faula. Che ne pensi? È bella, molto molto bella, molto molto bella. Complimenti, complimenti. Maria Grazia se lo merita. Maria Grazia è una ragazza solare, speciale, bellissima. C'è una marcia in più, come me. Io ho 12 nipote femmine. Ma questa qua è una missa mondo. Queste rose rosse che stanno alle mie spalle sono tutte per lei. Io vado un attimo di là perché tengo degli sposi di là che mi stanno aspettando. A dopo. Ciro, ma questa è una cosa proprio che rimane nella storia. A me mi sembra che ti ha piaciuto qualcosa. Penso pure io comunque abbiamo fatto, ci abbiamo messo tanto impegno. È un mosaico, Ciro, è un mosaico. Questo è le stelle, non è un mosaico. Lo so, è una stella, è come se fosse un mosaico.